Vai avanti il robot, questo qui indietro, questo qui avanti, questo qui indietro, poi se vuoi andare un po' in più, vabbè questo qui non lo schiacciare. Oh che bravo, bravo Nicola, bravissimo. Via! Eccolo. Bravo, vedi che lo fa piano? Leva i piedi, leva i piedi. Leva i piedi, leva i piedi. Grazie a tutti.